Accetto la nomina che mi ha fatta la responsabile dell'Isola di Pistò è la professoressa Morandi e quindi partecipiamo insieme a questo gruppo di amici per dare solidarietà a questi pazienti che purtroppo hanno una malattia molto grave legata anche allo sport e in particolare al calcio. Faccio notare come in realtà attraverso il numero verde 45502 si può fare una donazione che servirà per la ricerca e per creare una banca dati del DNA degli ammalati in Italia indispensabile per la ricerca.